Il tweet di Salvini, perché è interessante per Goffredo, eccolo qua, dedicato a chi ci vuole male, uniti si vince. Luico Federica, lui con Giorgetti, lui con Fontana e lui con Zaia. Con i governatori e con quello che governa. Che cos'è, un escusazio non pedita secondo te? Guardate, io andrei molto cauto a celebrare il De Profundis politico di Matteo Salvini, perché non credo affatto che sia così e credo che ci sia della verità terribile dal punto di vista di un italiano in quello che dice la Donato, dicendo guardate che Salvini la pensa come la penso io, insomma. Perché fondamentalmente credo che l'anima vera... Ma sentiamola un attimo, che carina, ha ragione, scusa, ha tirato fuori una cosa, volevo farvi vedere perché è una bella clip. Sentiamola così poi bucci di là, la chiosa. La gente vede tante persone che stanno male, anche persone che sono morte in seguito al vaccino e sull'accertamento del nesso di causalità ci sono anche molti dubbi e molte opacità e quindi mi sembra logico che le persone siano spaventate. Si è bastata una puntata e ha parlato di vaccini, non è più della legale. No, sono uscita dal partito. Su molte cose il segretario Salvini ha un punto di vista che era anche vicino al mio, però chiaramente avendo il ruolo di dover rappresentare un partito con diverse anime chiaramente deve fare una sintesi. Il cuore batte per l'adonato, secondo l'adonato, per la testa lo deve portare dall'altra parte. Io penso sostanzialmente sì, questo. Che guarda, l'appoggio di Salvini a questo esecutivo non è stato come andiamo a scrivere e ragionare il Salvini europeista, il Salvini che è diventato la destra costituzionale e repubblicana che in questo paese, ahinoi, non c'è e magari ci fosse. Il Salvini è un Salvini pressato dall'esigente della sua constituency che sta al nord e è fatta di imprese che vogliono lavorare, si volevano agganciare sacrosantemente al recovery plan e il governo Conte diciamo traballava almeno per essere generosi su questo aggancio vi ricordo che le poche cartellette programmatiche che era riuscito a mettere in piedi quell'esecutivo prima che arrivasse questo esecutivo agganciandolo all'Europa. Quindi c'è proprio un bisogno che la costituzione vera di Salvini ha espresso a Salvini e che ha spinto Salvini ad andare dentro. A fare una cosa che non si trova bene. Assolutamente no. Però scusa, strezzare l'occhio a quelli che tu hai definito in un articolo meraviglioso, peraltro, il guru delle false cure. Perché lui ha raccontato questo convegno con Rango, vi ricordate l'altra mattina Rango? Ecco, stava al Senato e ha raccontato questo consesso abbastanza strano. Sai, io penso che noi tra qualche anno valuteremo l'effetto che i social hanno fatto su di noi. Cioè quello che sta cambiando veramente, nella comunicazione, la quantità di follie e di assurdità che vengono propalate a un uditorio di miliardi di persone. C'è stato un intervento bellissimo, cito sempre, di Sacha Baron Cohen davanti all'Anti-Defamation League parlando di Facebook e di Twitter, disse se ci fosse stato Facebook negli anni 30 avrebbe dato a Hitler 30 secondi per spiegare in un post la sua soluzione del problema ebraico. Secondo me è una spiegazione folgorante del male di questa roba. Questa roba coniugata con un terrore planetario, il Covid, è che naturalmente, guarda, il complottismo è figlio delle nostre paure. Ogni volta che tu hai una paura cerchi un complotto che ti possa rassicurare. Metti insieme queste due cose e hai un mix esplosivo. Secondo me è abbastanza grave che una forza di governo, e qui torniamo alla moltiplicità della Lega, si presti a ospitare una cosa così al Senato. Questo mi sembra abbastanza... Sta dentro a questa stagione confusa di bisogni identitari. Tieni conto che queste forze politiche che, a parte... Al Senato che ha stato questo convegno, per chi non se lo ricordasse, di questi medici che propongono cure un po' fantasiose, alternative, c'era addirittura la liquirizia, sul fumigi... Dai su fumigi, alla di vermettina, alla liquirizia... Diciamo cose, insomma, in cui ci sono un sacco di persone in buona fede che ci credono e alcuni che ci fanno i soldi, perché poi c'è gente che vende libri, fa quattrini veri con queste idiozie, diciamolo, ad alta voce. C'è un problema nei partiti che, secondo me, è un problema identitario. Siccome la ciccia è gestita da questo esecutivo, i partiti, a parte le opposizioni, che ovviamente stanno andando alle opposizioni, hanno meno problemi identitari. Quelli che stanno nel governo devono inventarsi qualcosa.